di noi una campana portata dalla Polonia, chiamata La Voce dei Non Natti, che sarà portata in Kazakistan. Essa ricorderà la necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale. Saluto gli ideatori di questa iniziativa, la Fondazione Polaca Sì alla Vita, che porta il nome dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Vi benedico di cuore. Grazie. Grazie. Grazie.